ci sono tipo 40 persone... 40 marocchini a menarci... si che si stanno nominando si, questo è la prima... quelle sono le idee anche se io... io farei prima un investimento... si stanno ammazzando eh la? si ammazzano? eh? si... qui ci fanno... si... bottiglie... si ce l'hanno qua... ecco... cioè ha capito che quelle che vissi sono tutti sulle stesse... si si piccola... ma da chi sta buona? bene... bene... siamo alla follia! no, sono curioso... ma anche qua! haura... haura che sta dicendo? sono vero! hai capito, questo è un problema... è vera anche se so... sono tanti vero? si vedi, le altre non vengono avanti... si aggiungono... tocchi un amico di qualcuno inizia... ma, quello che ce l'ha leggendo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera ragazzi. Buonasera ragazzi. Buonasera. 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 sempre questo il controllo della zona è un problema questa cosa non potrebbero andare d'accordo chiamo alla follia questa è la stessa cosa del nord si, il sud già si fatti con cose che è tutto legale non potete tutto regolare tutto regolare tutto regolare no, succede che c'erano tipo 40 persone ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra la guerra più totale no, è finito tutto durato poco tafferuglio tafferuglio ma io sono senegalese ma io sono giapponese scherzi a parte signori e signori buonasera benvenuti a regolamento di conti un film di Dunkle ambientato tra via Nizza e via Saluzzi benissimo benissimo adesso sei arrivato subito in un momento caldo è bello che sono passato 5 minuti prima in macchina e non c'era nessuno meno male e non c'era niente salve fiorino oh merda alla buona ora diciamo che desidero adesso non c'è più nessuno quando c'erano e sono andati e tutti sono andati ah bene bene dove sono andati dove sono andati aspetta che tolgo la guai andiamoci così andiamoci di qua e si vede lo stesso no ma basta che non si vede le facce mamma mia è un'ansia stasera tu non hai idea dai mi la borsetta lì che mi controllano me ah sei tu il colpevole è la no non è quella lì no quella è la mia è l'altra sotto il computer lì lì tu stai lavorando? io sto sudando che desidero è la la faccia sospetta no ma hanno abbassato il volume è proprio diventato un ristorante cioè da essere bloccati bar è diventato un ristorante proprio a tutte di alta classe dobbiamo stare lì vabbè ma vado a raccomandare ma vado a raccomandare anche meno male non controllare lavora adesso l'ha controllata anche no cosa? si da max si ferma incomincia a chiedermi le informazioni arriva quello della pattuglia a fianco documenti si un controllo lo facciamo facciamo un controllino e l'arco già stava partendo che diceva ah minca l'hanno chiesto solo a me e adesso sclero invece gli ho detto no 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 l'hanno chiesto anche a me si perché anche tu non hai faccia stranchilo come me eccolo controllino con tutto quello che devono fare ah bene bene è successo solo che c'è stato un tafferuglio tra zona un po' diciamo di controllo delle forze diciamo e c'erano tipo 40 persone che si sono un po' azzuffate in mezzo alla via all'inizio poi sono andati tutti sono arrivati ma già non c'erano da 10 minuti anche perché sono molto intelligenti cioè fanno le risse però sanno in quanti minuti poterla fare tempo devono impigare ma con ampio anticipo un conto non è che dice un minuto prima cioè proprio a largo mamma mia poi in un attimo come si fa a formare 50 persone lì non lo so vuol dire che ce ne sono 10 di là 10 di là 10 in più 10 che sono anche dentro i condomini perché sentono qualcuno correva di qua andare di là e quelli che di là vengono di qua quindi si si chiada e poi qualcuno ma poi quanto hanno messo arrivare avevamo già finito da 10 minuti prima che arrivassi però ammilevoli che sono venuti non era facile io avrei avuto paura se uno li chiama 50 marocchini si stanno menando erano anche di altre nazionalità Valdis lei è un po' troppo tendenzioso verso una nazionalità lei li ha visti Valdis ha visto le loro fai documenti allora non può dire che erano marocchini può dire nordafricani colorita nordafricani in generale è come dire europeo se a me dici francese mi cazzo si di nazionalità che assomigliava a quelle del nordafricani ecco 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 devo difendere i miei fratelli marocchini attento no ma io ho dei grandissimi amici ma di scherzo ho dei grandissimi amici quando è così è sempre brutto quando si dice ho anche amici gay quando si inizia a dire così aia aia io mi spavento no nel senso che lì ma scherzo ma Valdro capisci scherzo scherzo ma se no mi dà ancora in te tenare quindi deve capire che lui ha capito ma mi deve tenere una faccia un po' da ironizzazione no ma questo è impossibile ma lo vedi i tuoi video io lo prendo per serio e sei impossibile Gesù è 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 Gesù è